E' vero, è stata la Lega che non ha voluto la mia candidatura a sindaco, però tramite Ignazio rispondo alla città dicendo che per me la Lega ha un solo nome e un solo cognome, si chiama Matteo Salvini. Matteo Salvini è qui con noi, sarà collegato in sala, il simbolo di Prima l'Italia c'è la Nino Germanaccia, il commissario provinciale che è Daniela Bruno, gli altri sono altra cosa, gli altri io non li definisco Lega, gli altri io li definisco personaggi squallidi che hanno utilizzato la Lega per il loro tornaconto personale e l'attaccamento al partito si è visto quando questa scelta è stata fatta, Prima l'Italia ha scelto di correre con Basile, hanno fatto una cosa diversa, questo è tutto l'attaccamento al partito che aveva. Un'altra dichiarazione che ha fatto oggi la Russa è stata quella in merito all'eventuale ballottaggio dove dice che Salvini ha dato disponibilità a lui e a Lameloni per un appoggio eventuale al candidato di centrodestra. Ecco però qui gli hanno spiegato male la questione perché la classifica già è stata stilata, sarà Primo Federico Basile e quelli che si autodefiniscono e si autoproclamano centrodestra dovranno fare una competizione col centrosinistra per capire chi arriverà tra di loro al ballottaggio.